Buongiorno a tutti e buon 2 giugno, buona festa a tutti, oggi però non si molla, ieri non ho postato il video perché pomeriggio sono stato impegnato, perché ho avuto la partita, per cui non ho avuto tempo di trovare l'idea di postare, allora mi sono preso ieri come giorno di riposo e oggi ragazzi si posta e stamattina leggendo le notizie, belle notizie, bello rilassato, vado a leggere che pare che sia quasi fatta per Leo Ostikart. Allora oggi quindi darò un po' gli aggiornamenti di calciomercato, è uscito anche uno short, andatelo a vedere, trattativo per Ostikart al Napoli, potrebbe essere lui il quarto centrale, terzo centrale, decidera Spalletti, sembra che Spalletti abbia dato l'ok e che il Napoli abbia già presentato l'offerta al Brighton. Allora, pareri sull'operazione. Io sono sempre un'idea, per me non sono questi i giocatori che ti fanno vincere i titoli, perché poi sono giocatori che tu scommetti alla fine, perché poi ti mandi a giocare su una squadra, su un top club, che il prossimo anno farà la Champions League, per cui ti mandi Ostikart in una squadra per la prima volta in un top club, e allora lì per me diventa una scommessa. Mentre io diciamo che avrei avuto un'altra idea sull'operazione del difensore centrale, perché legato alla questione Coulibaly, legato a Rachmani, che non so fino a che punto sia affidabile anche senza Coulibaly, io sarei andato diciamo su un altro profilo rispetto a Ostikart. Però di Ostikart mi piace molto il tipo di operazione. Andiamo a vedere le cifre che il Napoli offrirà per Ostikart. Allora, Napoli-Ostikart, si tratta per chiudere, offerta di Giuntoli, il Brighton vuole 10-12 milioni. Il difensore centrale del Genoa è uno dei calciatori che maggiormente interessa al Napoli in vista della prossima stagione. Sembra che loro vogliano appunto 10-12 milioni, lo stipendio di Ostikart sicuramente è basso, perché... e la cosa che mi piace di Ostikart è che quest'anno diciamo ha fatto esperienza in Serie A ed è stato uno dei pochi che del Genoa, della brutta stagione che ha fatto il Genoa, è stato uno dei pochi che si è salvato. Per cui, come tipo di operazione, come costi, come stipendio, come età e come diciamo gestione del giocatore mi potrebbe anche andare molto bene, perché è un giocatore che ti potrebbe fare da terzo centrale e che il prossimo anno, magari, quando Juan Jesus deciderai di non averlo più, perché comunque Juan Jesus sono contentissimo ci sia anche il prossimo anno, però comunque l'età avanza per tutti, prima o poi Juan Jesus non è che è eterno, andrà via anche lui, allora magari avrai Ostikart che è cresciuto e potresti appunto dargli il ruolo di Juan Jesus. L'idea che avevo in mente io ce l'avrete nel video della costruzione della squadra del Napoli che arriverà lunedì, dove io costruirò le squadre per il prossimo anno. Sto preparando già tutti i lavori, i powerpoint e così, per adesso ho preparato il Napoli 2023 e la Juventus 2023, cioè della stagione 2022-2023. E scoprirete chi è il nome che io volevo in difesa, che in realtà è un pochino più difficile da apprendere, che però secondo me sarebbe una buona idea, lo scoprirete. Parlando di Ostikart, io sì, contento dell'operazione, per me è un buon difensore, uno di quelli che ti sa marcare, uno di quelli molto fisici e che piace anche andare a saltare di testa dentro l'aria, perché quest'anno ha segnato il rimbari contro il Milan in Coppa Italia. Deve stare attento con i cartellini, aveva preso un'espulsione, deve essere attento su queste cose qui, però secondo me sotto la guida di Spalletti potrebbe crescere anche lui. Spalletti è uno che nei giovani ci crede e che potrebbe tranquillamente farlo crescere. Per cui, scrivetemi i commenti se secondo voi potrebbe essere lui il nuovo acquisto del Napoli, vi piace come acquisto oppure non vi piace. Andiamo a parlare di un altro profilo, sempre del Genoa, che sembra che il Napoli abbia bloccato, che sarebbe Salvatore Siricu. Potrebbe arrivare Siricu come secondo portiere, andiamo a leggere se c'è qualche articolo nuovo su Siricu, che stamattina mi ha sfuggito. Siricu potrebbe essere un giocatore del Napoli come secondo portiere. Si dice che il Napoli l'abbia bloccato, Siricu non ha opportunità, perché comunque lo prende di non pare niente, è un portiere abbastanza anziano, ed è uno di quelli che secondo me come secondo portiere ti può dare sicurezza. E secondo me, se te tieni Meret e prendi Siricu, secondo me fai anche una grossa operazione, perché Siricu è amico di Meret, sono italiani tutte e due, potrebbe dargli qualche consiglio, potrebbe rassicurarlo. Secondo me la coppia Siricu-Meret potrebbe essere un'idea vincente anche lì, dobbiamo stare attenti. Oppure magari non è detto che non arrivi un Siricu Collini a porta, perché comunque si dice che comunque torna l'Atalanta ma deve andare via, perché l'Atalanta ha già Musso, ha anche Carnesecchi, che comunque dovrebbe rimanere in prestito la Cremonese. Comunque l'Atalanta ha un giro di portiere abbastanza ampio, per cui potrebbe darne uno. Si parla di Vicario. Comunque tutti i portieri, se notate, Gollini, Vicario, Meret, portieri italiani, che con un secondo portiere di esperienza, che ha 35 anni, che la nazionale la conosce, che è stato in nazionale, che viene sempre convocato perché ha una sicurezza, perché sa dare sicurezza agli altri portieri, per me Siricu al Napoli è il topo del top come secondo portiere. È un'idea che a me veramente piace molto, perché lo vedo utile appunto per far crescere Meret mentalmente e per far crescere qualunque altro portiere. Però il primo portiere, ragazzi, a me farebbe piacere a sto punto se lo prendessimo un italiano. Proprio per questo motivo. Proprio per questo motivo. Per cui Napoli che punta Genova, evidentemente Ostigart, Siricu. Per me Ostigart, ripeto, grande scommessa. Potrebbe andare bene come potrebbe andare male. È una di quelle scommesse che ci si deve giocare assolutamente. Potrebbe essere un buon acquisto, vista le gerarchie in difesa. Però se quest'estate mi va via Coulibaly, allora comincio anche io a vacillare, anche qui sull'acquisto di Ostigart. Perché con un Coulibaly che va via, allora le cose cambiano molto sul calciomercato e la difesa. Questi aggiornamenti. Vediamo se ci sono altre notizie. Non ne vedo altre. Ostigart, tutti i giornalisti che girano intorno a Napoli, dicono che comunque sia un buon difensore che andrebbe provato. Conosce la Serie A. Lui vanta 14 presenze in Serie A. E adesso ragazzi vedremo appunto come andrà. Altre notizie di calciomercato non ne ho. Si parla di Bernardeschi, dell'Aurentis che lo sta trattando. Ci potrebbe essere anche Deulofeu. Sembra che il Napoli abbia già fatto l'offerta all'Udinese. Comunque Napoli molto attivo sul mercato che ha già concluso il rinnovo di Juan Gessus, ha preso Mattia Solivera, ha preso Quagaschelia. Comunque le operazioni sul Napoli sono girate. Goulam e Malquitta hanno ufficialmente lasciato. Hanno anche salutato la città, i giocatori. Perché non rimarranno a Napoli. Queste le news di calciomercato sulla SSC Napoli. Un saluto a Leonardo Matano. Buon 2 giugno a tutti. Buona festa a tutti. Mangiate, bevete e fate quello che vi pare. Buon 2 giugno a tutti.